Capitolo 46 Quando telefonò, non riconobbi la sua voce. In parte perché non me l'aspettavo, in parte perché ero ancora mezza addormentata. Mi disse, sono in auto, sto venendo da te, posso vederti? Era mezzanotte e mezza. Boston era a cinque ore e mezza di distanza, aveva guidato tutta la sera, voleva vedermi. Gli dissi di parcheggiare in strada e che ci saremmo incontrati all'angolo, quando mia madre fosse andata a letto. Lui mi rispose che avrebbe aspettato. Spensi le luci e attesi alla finestra, osservando i fanali posteriori delle auto. Quando vidi la sua auto, mi venne voglia di correre fuori, ma dovevo ancora aspettare. Sentivo mia madre gironzolare per camera sua e sapevo che si sarebbe messa a leggere a letto per almeno mezz'ora prima di attormentarsi. Era una tortura sapere che lui mi aspettava fuori e non poter uscire. Al buio indosso la sciarpa e il cappello che la nonna mi ha regalato per Natale. Poi chiudo la porta della camera e raggiungo in punta di piedi la stanza di mia madre, premendo l'orecchio alla porta. La luce è spenta e la sento russare lievemente. Stephen non è ancora rientrato e questo è un bene perché lui ha il sonno leggero come nostro padre. Mia madre si è finalmente addormentata. La casa è tranquilla e silenziosa. L'albero di Natale è ancora acceso. Teniamo le lucine accese anche di notte per mantenere l'atmosfera natalizia, quasi che da un momento all'altro Babbo Natale possa apparire con i regali. Non mi prendo la briga di lasciare un biglietto per mia madre. Le telefonerò al mattino quando si sveglierà e si domanderà dove sono finita. Scendo di soppiatto le scale, stando attenta allo scalino scricchiolante che si trova a metà. Ma una volta uscita di casa, percorro come un fulmine la scalinata d'ingresso e l'erba ghiacciata. Mi scricchio là sotto alle scarpe da ginnastica. Ho dimenticato di indossare il cappotto. Mi sono ricordata della sciarpa e del ma non del cappotto. La sua auto è all'angolo, proprio dove dovrebbe essere. È buia, senza luci, e io apro la portiera dal lato del passeggero come se lo avessi fatto milioni di volte. Ma non l'ho mai fatto. Non ci sono neppure mai entrata. Non lo vedo da agosto. Faccio capolino all'interno, ma non entro, non ancora. Prima voglio guardarlo. Devo farlo. È inverno e lui indossa un paio il grigio. Ha le guance arrossate per il freddo. La bronzatura è svanita, ma è comunque uguale a sempre. Ciao, dico, e poi salto dentro. Sei senza cappotto? Non è poi così freddo. Replico. Anche se lo è. Anche se sto tremando. Tieni. Si sfila il pile e me lo porge. Me lo metto. È caldo e non puzza di sigaretta. Ha soltanto il suo odore. Dunque Conrad ha smesso di fumare. Mi viene da sorridere. Conrad mette in moto. Non riesco a credere che tu sia qua. Timidamente dice. Neppure io. E poi esita. Sei ancora convinta di voler venire con me? Non riesco a credere che debba chiedermelo. Io con lui andrei ovunque. Sì, gli rispondo. Ho l'impressione che non esista altro all'infuori di quella parola, di quell'attimo. Ci siamo soltanto noi. Tutto ciò che è successo in quest'estate e nell'estati precedenti ci ha portati fino a qua. A ora.